Cinque persone, tra cui imprenditori della sanità e dirigenti della ASD di Pescara, sono finiti gli arresti domiciliari in un primo filone investigativo per corruzione turbativa d'asta negli appalti dell'azienda sanitaria. Altre 13 persone risultano indagate. Tra i destinatari delle misure cautelari vi è anche l'86enne imprenditore pescarese Vincenzo Marinelli, arrestato dagli uomini della squadra mobile della Guardia di Finanza di Pescara, stamani assieme al suo collaboratore Graziano Canonico, mentre erano a Grottamare, nell'Ascolano, dove Marinelli si trovava quale accompagnatore della nazionale Under 21. I cinque provvedimenti sono stati firmati dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Pescara, coordinata dal procuratore capo Giuseppe Bellelli, il quale ha diramato una nota nella tarda mattinata nella quale si fa riferimento al condizionamento di almeno cinque gare d'appalto per un valore complessivo pari a 35 milioni di euro, con costosi doni, cene conviviali, promesse di incarichi remunerativi e con vere e proprie tangenti di denaro che il noto imprenditore della sanità pescarese direttamente o tramite i suoi emissari, tra cui Canonico, faceva pervenire alla direttrice dell'unità operativa complessa acquisizioni beni e servizi della ASL, Tiziana Petrella, anche lei agli arresti. L'uso di fatture false emesse da enti e società compiecenti al gruppo e la creazione di appositi fondi consentivano di creare la provvista di denaro necessario per le tangenti, domiciliari anche per un altro funzionario pubblico in servizio presso la stessa unità operativa complessa, Antonio Verna, che ha intrattenuto i rapporti con Marinelli quando la suddetta dirigente aveva appreso di essere sotto indagine, e per un altro imprenditore della sanità, Fabio Tonelli, che in virtù dei rapporti intrattenuti con i dirigenti dell'ASL coinvolti e in cambio di denaro è risultato affidatario diretto di diverse commesse e di gare per la fornitura di dispositivi di protezione individuale. Le cinque misure sono state emesse per il pericolo di reiterazione delle condotte illecite, altre due richieste non sono state soddisfatte dal GIP.